30 gennaio 1933. Il vecchio Hindenburg nomina cancelliere Adolf Hitler, leader del partito di maggioranza relativa. Per 12 anni terrà il potere in Germania, artefice dei peggiori crimini contro l'umanità del XX secolo. Porrà termine alla sua vita ingerendo una fiala di cianuro nel bunker della morte il 30 aprile del 1945. Grazie per la visione!